Bravi! Che pubblico intelligente, preparato, vedo che avete indovinato. Sì, proprio lui, il grande, il grandissimo, l'incommensurabile Elvis. Nascono tutti i bambini e fin da tenerissima età ha uno spiccato senso della musica. Impara a suonare la chitarra. Grazie. Grazie. E pian piano sviluppa quella sua inimitabile voce. Solo io riesco ad imitarlo. Quell'insuperabile... Grazie a tutti.